Una preghiera per i lavoratori dell'indotto e del diretto dello stabilimento Eni di Gela. Un momento di raccoglimento dinanzi al palazzo di città in piazza Municipio. E' prevista per oggi alle 18 la messa che sarà celebrata dal vescovo della diocesi di piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, sempre attento e vicino a chi soffre una crisi occupazionale senza precedenti. Una celebrazione eucaristica all'aperto per non fare perdere la speranza. La preoccupazione del prelato è che al dramma si possa aggiungere altro dramma, cioè quello di rivolgersi agli usurai e favorire ulteriormente la mafia, la malavita organizzata che è in agguato approfittando dello stato di disperazione degli operai e delle loro famiglie. Alla celebrazione eucaristica di oggi parteciperanno, oltre agli operai e ai sindacati, la città tutta ed il clero di Gela, dove è possibile le chiese saranno chiuse per far partecipare tutti alla preghiera. Intanto la vertenza Gela è seguita con particolare attenzione dalla Giunta Comunale. La vertenza Enio ormai è approdata su tutti i tavoli della politica italiana, ci sarà qualcuno che potrà incidere in maniera importante? A questa poi si aggiunge anche la protesta degli agricoltori, ormai un settore assolutamente al collasso. Sì, noi attenzioniamo tutte le attività produttive del territorio. Infatti ieri eravamo a Roma, abbiamo parlato non solo di Enio, ma abbiamo parlato anche di petrol tecnica, abbiamo parlato anche di ampliamento del depuratore, che è pure all'interno del sito SIN. E quindi ci occupiamo non solo esclusivamente dell'evertenza Enio riferita al multinazionale, ma di tutte le attività produttive che si potranno insediare all'interno delle aree della zona industriale di Gela, dell'ex raffineria diciamo. In secondo luogo, siamo stati due giorni fa, tre giorni fa a Palermo a parlare per quanto riguarda i consorsi di bonifica. Abbiamo visto quali sono le criticità, quali possono essere le soluzioni. Stiamo trovando anche là delle soluzioni per protettorare dei finanziamenti aggiuntivi, per sconciolare l'aumento dei canoni per quanto riguarda l'acqua in rigua. Molte di queste competenze non sono parte delle competenze del Comune, però sono dei problemi che vive la nostra collettività. Quindi è per questo che cerchiamo in tutti i modi di poter essere di supporto, di poter essere da pungolo per poter trovare delle soluzioni a chi è demandato a farlo, ovvero sia Regione e Stato. Ed è per questo che noi andiamo in tutti i tavoli, perché già il fatto di essere presenti vuol dire che c'è un'attenzione particolare. Il fatto poi da tecnici di poter dare anche delle soluzioni è quel qualcosa in più che può finalmente dare le risposte che le persone attendono. Però ritorno a ripetere, molte di queste soluzioni dipendono da altri, non dall'amministrazione, ma l'amministrazione è presente per dire a chi è che deve poter attivarsi, chi è che può decidere di farlo in tempi brevi.